Mi chiamo Marco Lombardi, ho 29 anni, ho appena terminato un ciclo di dottorato presso l'Università di Brescia sotto il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione con corso curricolare delle telecomunicazioni. Il dottorato è stato realizzato in collaborazione con l'azienda Open Technologies. In azienda avevamo a disposizione un prototipo di scanner 3D che stavano sviluppando. Il prototipo presentava dei problemi legati al tracking della camera. Il primo approccio che abbiamo adottato è stato quello di analizzare tutto lo stato dell'arte riguardante ai problemi di tracking e di registrazione di viste multiple. Dalle potenzialità delle nuove tecnologie che sfruttano le reti neurali abbiamo deciso di provare a sviluppare per conto nostro delle soluzioni che potessero aiutare questo dispositivo a migliorare la robustezza del tracking della camera. I risultati della nostra ricerca hanno evidenziato come l'utilizzo di queste tecnologie innovative offre dei risultati che sono quantomeno comparabili con quello che è lo stato dell'arte e in alcuni casi addirittura migliorativi. I risultati della nostra ricerca sono stati dunque raccolti all'interno di un software che abbiamo sviluppato in maniera open source che permette alle università di portare avanti la ricerca nell'ambito del 3D processing mediante reti e inoltre questi algoritmi verranno poi utilizzati all'interno del workflow che verrà impiegato per realizzare lo scanner nei prossimi anni a livello aziendale.